Musica Cari amiche e cari amici, benvenuti ad una nuova edizione del giornale di TvR Xenon. Sicilia è l'Expo, Movimento 5 Stelle duro. Una delegazione guidata da Giancarlo Cancellieri ha spezionato lo spazio riservato al padaglione Italia e all'isola. Uno spazio ridicolo, un buco di una ventina di metri quadri, pressoché deserto, costato un pozzo di soldi pubblici nel quale sono stipati i meravigliosi acroliti di Morgantina, Demetra e Core. Il bilancio dell'ispezione è fatta da una delegazione del Movimento 5 Stelle regionale allo spazio riservato alla Sicilia e all'Expo di Milano e addirittura peggiore di quanto ha preventivato. Dopo il disastroso avvio del cluster biomediterraneo, anche lo spazio SPINT mostra tutto il mondo. tutte le sue falle e inadeguatezze. Vogliamo conto e ragione di ogni centesimo investito, si legge in una nota, e crocette all'assessore Vancheri vengono in commissione a Lars, con l'elenco dettagliato delle spese e il crono programma degli obiettivi da raggiungere. E Salvini come Renzi? Basta passerelle e chiacchiere. E lo striscione con il quale una cinquantina di persone hanno contestato il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, appena giunto a Villabate, centro alle porte di Palermo, per un comizio elettorale. I manifestenti hanno lanciato uova e pomodori e sono stati tenuti a distanza da un cordone di poliziotti in tenuta di anti-sommossa. E passiamo a Catania. Circa una tonnellate di marijuana è stata sequestrata a bordo di un peschereccio nel porto di Riposto, in provincia di Catania, dai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale, che hanno arrestato nove persone e recuperato anche due fucili mitragliatori Kalashnikov. I particolari dell'operazione sono stati resi noti durante una conferenza stampa in programma alle ore 10.30 del 13 maggio, nella Procura della Repubblica di Catania, nella presenza del procuratore Giovanni Salvi. E i bagliori pulsanti, che siano registrati martedì 12 sul vulcano Etna, continuano anche per il 13 maggio, mentre un fronte lavico tenta di farsi largo scendendo verso la valle del Bove. Il tremore si mantiene sui livelli dei giorni scorsi, rassicurano i tecnici dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La sede di Catania dell'Istituto, infatti, parla di una collata lavica che parte dalla frattura nord-orientale del nuovo cratere di sud-est, sopra i 3.000 metri, e che si dirige verso la valle del Bove, appunto. E l'Etna che ricomincia a fare parlare di sé. L'ultima eruzione significativa era stata a gennaio, ma per capire se questa seguirà la precedente è ancora troppo presto. Il tremore si mantiene sui livelli dei giorni scorsi, proseguono i tecnici dell'Ingv, anzi, forse leggermente diminuito. Ma aspettiamo di vedere come evolve la situazione. La mia sensazione, conclude di Stefano, è che ci possono essere tre giorni di parossismo di questo tipo, al termine dei quali tutto ritorna in una condizione di stabilità. Ma ovviamente non si può prevedere nulla. La sua percezione, però, è condivisa dagli ingegneri dell'Istituto di Geofisica e Vulcanologia. Per il momento, dicono, è solo un bello spettacolo da osservare la notte. E da martedì 19 maggio a lunedì 15 giugno si terrà la Scala Infiorata. La Scala Infiorata è un omaggio alla Modena di Conadomini, compatrona della città di Caltagirone. Migliaia di vasi con piante e fiori dalle diverse sfumature di colore formano un unico grandioso disegno sulla Scala Santa Maria del Monte. Da Piazza Municipio e dalla Via Principe a Medevo è possibile ammirare l'Infiorata, nella sua interezza. È sicuramente uno spettacolo unico del suo genere, insieme alla famosa Scala Illuminata di luglio ed agosto. La durata di oltre un mese consente a turisti e visitatori di programmare la loro venuta per ammirare la grandiosità della scala tra ceramiche, fiori e colori di primavera. La loro presenza, infatti, è sempre più numerosa. Abbiamo un avviso pubblico per progetti di assistenza per soggetti in condizioni di disabilità gravissima del distretto socio-sanitario numero 13. E si rende nota ai cittadini residenti nei comuni di questo distretto, quindi Caltagirone, Gran Michele, Mirabello in Baccari, San Michele di Gazzaria, Mineo, San Cono, Mazzarone, Licodia e Vizzini, che entro il 3 giugno si possono presentare alle istanze di finanziamento per interventi in favore di persone in condizione di disabilità gravissima. Per i disabili gravissimi si intendono i soggetti in condizione di dipendenza vitale che necessitano a domicilio di una assistenza continuativa e monitoraggio di carattere socio-sanitario nelle 24 ore, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. I progetti assistenziali personalizzati dovranno avere la durata di almeno 12 mesi e sono da ritenersi ammissibili soltanto le spese riguardanti il personale di assistenza, strettamente legate alle funzioni assistenziali svolte nell'ambito del progetto. I progetti verranno avviati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale finalità assegnate al distretto. I cittadini interessati in possesso dei requisiti previsti, utilizzando il modello di istanza pubblicata sul sito istituzionale dei comuni del distretto socio-sanitario, possono presentare istanza finalizzata alla furuzione del servizio di cui sopra, presso gli uffici di servizio sociale di ciascun comune. Amor Food, dal 15 al 23 maggio, sarà protagonista a Piazzetta Sicilia, l'Expo 2015, per mostrare al mercato internazionale le eccellenze e le peculiarità dei sapori siciliani, con uno sguardo all'arte contemporanea. Lo scopo, attraverso una fitta rete di iniziative che si susseguiranno nello spazio, è di dare visibilità a una rete di piccoli produttori locali e scoprire alcuni memorabili luoghi dell'isola attraverso itinerari turistici appositamente pensati. Amor Food è un progetto interamente made in Sicily di due giovani imprenditori siciliani Andrea Moulet e Andrea Di Rosa, con la direzione artistica di Antonella Amorelli, già coordinatrice anima di Riso, museo d'arte contemporanea della Sicilia. L'obiettivo, sprega Andrea Moulet, è quello di attrarre investitori in Sicilia, creando bisogni reali, alimentando la ricerca di prodotti in grado di produrre benessere per la nostra isola e suscitare interesse da parte del visitatore che può vedere la Sicilia come terra di forte attrattività sotto un profilo alimentare, turistico e culturale. L'agente aggiunge vuole conoscere ciò che mette in tavola i processi produttivi e le dinamiche culturali che rendono ogni prodotto inimitabile. E il Presidente della Regione Siciliana, Resorio Crecetta, l'assessore regionale agli enti locali Ettore Leotta, hanno firmato il decreto con cui, nel prendere atto della cessazione della carica del Sindaco, della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, per effetto della mozione di sfiducia al primo cittadino dello scorso 21 aprile, nominano il commissario straordinario che amministrerà il Comune di Caltagirone, in sostituzione degli organi cessati dalla carica. Si tratta di Mario Larocca, ingegnere di 52 anni di Palermo, dirigente in servizio all'assessorato regionale alle infrastrutture, che si insedierà al municipio in tempi brevissimi. Larocca è una vecchia conoscenza per Caltagirone, essendo stato commissario liquidatore dell'azienda autonoma Soggiorno e Turismo e ingegnere capo dei lavori del quarto lotto dell'ospedale Gravina. E dal 13 maggio, nel giorno in cui la Chiesa celebra la memoria di Maria Santissima di Fatima, il santuario della Madonna del Piano verrà restituito ai fedeli dopo il completamento dei lavori di restato degli affreschi del presbiterio. Alle ore 17 a Gran Michele sono stati presentati i lavori di restauro, a seguire alle ore 19 il suo eccellenza Monsignor Calogero Peri, vescovo della diocesi di Caltagirone, presidenziato alla liturgia eucaristica. La devozione dei gran michelesi per la Vergine, afferma Don Salvo Luca, rettore del santuario, è forte e intensa. La riapertura al culto del santuario ridà ai fedeli la possibilità di vedere in lei la madre della speranza che ci protegge e ci accompagna nel nostro cammino quotidiano. Dal 17 maggio, ogni domenica alle ore 17, presso il santuario sarà celebrata la Santa Messa per tutti i fedeli. In questo mese Mariano continua Don Luca, si rinnova alla scuola di Maria l'invito all'ascolto della parola e alla preghiera del rosario. Affidiamo a Maria la nostra vita, i nostri bisogni, possa lei intercedere per noi presso il suo figlio e ci insegna a riconoscerlo come nostro Salvatore ed affidarci a lui. E a Catania è prevista per il 14 maggio il Peer Day 2015. A conclusione di un'attività di Peer Education e Promozione della Salute dell'anno scolastico 2014-2015, l'Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute dell'ASP 3 di Catania, diretta dal dottor Stavatore Cacciola, organizza per il 14 maggio dalle ore 9 alle ore 13 e 30, presso il Palazzo della Cultura in via Vittorio Emanuele 121 a Catania, la tredicesima giornata della Peer Education. Parteciperanno Peer Educators, docenti tutor, referenti di educazione alla salute. La giornata ha come obiettivo l'incontro e il confronto di esperienze tra gruppi di educatori che hanno seguito percorsi formativi su diverse tematiche, sessualità, alimentazione, alcol, fumo e sicurezza stradale. Gli istituti di istruzione superiore coinvolti sono l'Istituto Ferraris di Acireale, l'Istituto Ferraris di Belpasso, l'Istituto Enrico Fermi Eredia di Catania, l'Iceo Artistico Greco di Catania, Liti Marconi di Catania, l'Is De Nicola di San Giovanni La Punta, l'Is Lucia Mangano di Catania, l'Iti Cannizzaro di Catania e l'Ita Eredia di Catania. La polizia di Stato arresta 5 persone a Comiso, originaria dell'Eritrea, l'organizzazione criminale multietnica responsabile del sequestro di persone a scopo di esforzione e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Tra le vittime è anche una minorenne di 15 anni che ha denunciato i suoi guzzini. Gli stranieri sopra menzionati sono stati associati presso la casa circondalea di Lagusa a disposizione della procura della Repubblica Iblea, in quanto hanno privato della libertà più persone, tra le altre appunto una minorenne di 15 anni che le ha denunciati e riconosciuti. Al fine di trarne profitto economico. E la via su agenda europea sull'immigrazione. L'agenda europea sull'immigrazione rappresenta la prima risposta concreta alle richieste portate avanti dal Ministro dell'Interno Angelino Alfano e alle politiche di solidarietà per le quali si è battuta ogni giorno la nostra delegazione. Il commento dell'eurodeputato Giovanni Lavia del Partito Popolare Europeo è presente dalla Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza, dopo l'emanazione da parte della Commissione Europea, della nuova agenda sull'immigrazione che offrirà ai rifugiati con evidente bisogno di protezione internazionale, 20.000 posti. L'Italia dovrà ospitare il 9,94% del totale, pari a 1.989 persone. L'Italia aggiunge la via dato esempio di come sia possibile affrontare una missione umanitaria senza precedenti nella storia coniugando il rispetto della dignità di migliaia di rifugiati politici con la rigorosa applicazione delle leggi. Questa strada importante aperta da Angelino Alfano rappresenta l'unica via per l'affermazione dei valori della solidarietà e dell'accoglienza. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.